I cristiani hanno attribuito alla Pasqua un nuovo significato, identificando l'agnello con Cristo stesso, morto e risorto, e hanno perciò celebrato la Pasqua. Il 2016, però, proprio in virtù di questo agnello, da troppo tempo sacrificato sulle tavole degli italiani, molti sono propensi a non cedere a questa leccornia per il palato, soprattutto dopo un servizio andato in onda in questi giorni sulla RAI, divulgato dall'Associazione dei Consumatori, che pone l'accento sulle barbarie perpetrate su questi animali che non superano il mese di vita e che nella maggior parte dei casi sono di importazione, e quindi con seri rischi anche per la salute di chi ama tanto questo cibo. Tanti molisani nel weekend pasquale prediligono mete fuori porta, ma non serve allontanarsi tanto per festeggiare la Pasquetta. Le previsioni per quest'anno saranno orientate sul tradizionale casalingo, non mancherà la colomba, anche se sarà industriale, perché quella di pasticceria costa troppo. I molisani però in questa bella regione hanno diverse alternative, senza per questo dover svuotare il portafoglio. A Campobasso, nel lungo fine settimana, presente la manifestazione di tutti i cioccolatieri, con il motto di Oscar Wilde, l'unico modo di liberarsi di una tentazione e cedervi. L'Associazione Memo Cantieri Culturali attua invece diverse proposte, e Pasquetta è il momento ideale per riscoprire il nostro territorio. Ne parliamo con l'archeologa Alessandra Capocefalo, una professionista nell'organizzazione di visite guidate e a tema. Si nota cura e passione. Tanti visitatori, soprattutto tedeschi, ma i molisani apprezzano questo luogo? Assolutamente sì, nonostante il numero di molisani non sia altissimo, negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, da quando abbiamo cominciato con le nostre attività all'interno dei musei, castellari archeologici di Molise, sicuramente tantissimi molisani hanno avuto modo di riscoprire i luoghi della cultura che appartengono al loro territorio, attraverso una serie di iniziative. Nonostante non sia un reperto, come dire, ceramico, di metallo, o comunque, diciamo, i soliti reperti archeologici, è sicuramente una delle cose che incuriosisce di più i visitatori, anche perché non è così, diciamo, usuale rinvenire dei cibi, degli alimenti all'interno delle tombe, almeno così ben conservati. Continuiamo a parlare di uova, ma in una forma leggermente diversa. Da chi sono state realizzate? Allora, questi pani, che noi definiamo ancora adesso, nonostante tutto, dei pani rituali, sono stati realizzati da una mamma di Trivento, Lucia Santorelli, che ci ha aiutato per questo laboratorio che abbiamo chiamato Cavalli di Pasta. Sono dei pani tradizionali molisani, ma non solo, che hanno questa caratteristica dell'uovo all'interno, in corrispondenza appunto del ventre e della pancia. E questo è molto importante perché, partendo nel caso nostro regionale della tomba di Ururi, delle voa della tomba di Ururi, abbiamo un altro riferimento, che poi è andato avanti nel corso dei secoli, relativo appunto alla vita e alla rinascita. Per le festività di Pasquetta, è quindi lunedì dell'angelo, che prende il nome dal fatto che in questo giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro, o meglio conosciuto come Pasquetta. Diversi luoghi di cultura, musei e siti archeologici restano aperti al pubblico.